Salve e benvenuti su State of the Union, sono Stefan Grobe a Bruxelles. Da mercoledì gli Stati Uniti hanno un nuovo presidente e il mondo ha tirato un grande sospiro di sollievo. Per cominciare il rispetto reciproco e la decenza sono tornati. La politica non deve essere come il fuoco che distrugge tutto sul suo cammino, ha detto Joe Biden. Molti americani sono stati felici di sentire quelle parole e così lo era quasi l'intera classe politica in Europa. Da questo punto di vista nessuno è stato più chiaro e onesto della presidente della Commissione europea. Questa nuova alba negli Stati Uniti è il momento che stavamo aspettando da tanto tempo. L'Europa è pronta per un nuovo inizio con il nostro partner più antico e fidato. Sembra che la nuova amministrazione americana sia pronta. Joe Biden si è preso un momento per parlare direttamente al mondo, qualcosa di piuttosto insolito per un nuovo presidente nel suo discorso inaugurale. Ma dopo quattro anni di irritazione, sfiducia e sconforto deve essersi sentito obbligato a farlo. Ecco il mio messaggio per coloro che sono oltre i nostri confini. L'America è stata messa alla prova. Ripareremo le nostre alleanze e ci impegneremo ancora una volta con il mondo. Non per affrontare le sfide di ieri, ma le sfide di oggi e di domani. La posta in gioco è molto alta, ma cosa possiamo aspettarci? Dov'è l'Europa tra i mille pensieri di Joe Biden? Per capirci qualcosa è qui con me Alexandra de Hope Schaeffer, la direttrice dell'ufficio di Parigi del German Marshall Fund. Benvenuta nel programma. Questa è stata un'inaugurazione diversa da qualsiasi altra e piena di simbolismi politici. Quali sono stati i punti salienti? Penso che il discorso inaugurale di Biden sia stato piuttosto potente, ma era anche molto ancorato al realismo. Dava un'immagine e una comprensione molto realistica dello stato attuale dell'America. Un'immagine molto realistica anche delle divisioni tra gli americani, soprattutto quando ha menzionato i rischi di una guerra civile. È stata un'affermazione e un avvertimento piuttosto potente a tutti gli americani. Ed è stato anche molto realistico in termini di comprensione delle sfide pesanti e complesse che lo aspettano. L'altra cosa che bisogna ricordare del suo discorso e del giorno dell'inaugurazione in generale è ovviamente l'assenza di Donald Trump. Giusto? Molti analisti ritengono che in termini di politica estera l'amministrazione Biden sarà una coppia di Obama. Un Obama 3.0 condivide questa affermazione? Assolutamente no. Assolutamente no. Ciò che mi colpisce particolarmente è il modo in cui ha inquadrato la sua politica estera, definendola una politica estera per la classe media americana. E questo ci dice molto su come articolerà continuamente gli impegni internazionali statunitensi e su che cosa significa per la classe media americana. Non vedremo immediatamente un'amministrazione americana che vuole firmare nuovi accordi commerciali. Vedremo una politica estera americana molto più prudente, che guarderà sempre a quale impatto, quanto costerà agli Stati Uniti impegnarsi nuovamente in questa organizzazione multilaterale o firmare un nuovo accordo commerciale. Sulle relazioni transatlantiche è difficile immaginare che Biden tornerà ai bei vecchi tempi prima di Trump. Quale sarà l'agenda europea di Biden? Penso che si renda conto che in termini di priorità internazionali l'Europa è un partner indispensabile. Quando si guarda le priorità di Biden oggi, vediamo che sono la crisi del Covid, la ripresa economica, il cambiamento climatico. Lo abbiamo visto firmare un ordine esecutivo per segnalare che gli Stati Uniti saranno nuovamente impegnati nell'accordo sul clima di Parigi, il che è una decisione significativa di cui ovviamente gli europei sono estremamente felici. Ma in tutte queste aree politiche gli europei sono al centro di quell'agenda. Quello che penso che accadrà è sicuramente che l'Europa sarà un perno abbastanza naturale quando si tratterà di progettare la politica estera degli Stati Uniti. Con la Brexit in pieno vigore, con Angela Merkel in uscita, chi sarà il partner di riferimento di Biden in Europa? Penso che non ci sia una sola risposta a questa domanda. Probabilmente ci saranno relazioni bilaterali. Ci sarà anche un interesse degli Stati Uniti a trattare direttamente con Bruxelles, con le istituzioni europee, su tre grandi questioni che sono le priorità per Biden. Il cambiamento climatico, numero due ovviamente la crisi da Covid, e numero tre le questioni digitali in cui l'Unione Europea ha un'influenza crescente su questi temi. Grazie per essere stata con noi. Grazie. Il successo di Joe Biden sulla scena globale dipenderà in larga misura dalla sua capacità di guarire una nazione divisa, e ciò dipenderà anche dal fatto che Donald Trump rimarrà nascosto o meno, politicamente parlando. Al Musee Grevain di Parigi questo è diventato già una realtà. La statua di cera di Trump è stata demolita senza tante cerimonie. La manutenzione della statua era costosa, i capelli di Trump erano costati molti euro, e i visitatori avevano un debole per infilare un dito nel naso di Trump per farsi i selfie, con conseguenti ripetute riparazioni della statua. Il Museo spera che le persone siano più attente al busto di Biden. E' tutto per questa edizione, sono Stefan Grobe, grazie per averci seguito e buona settimana.